Salve ragazzi e ragazze, o quello che è, il mio nome è Capitan Jack Sparrow. Avrete sentito parlare di me. Come forse saprete ci sono volte, quasi tutte le volte, che preferisco guardare il mondo attraverso un bicchiere. Di rum. Questa è una bottiglia. Oh! Avrete anche sentito girare voce che Jack Sparrow sta reclutando una ciurma per intraprendere un viaggio alla fonte della giovinezza. Non vero. Proprio no. Ma anche se non fosse non vero, a voi non interessa unirvi a me, no? Morte sotto di noi che facciamo vela. Per la fonte della giovinezza. Potete guidare una spedizione. Voi siete Jack Sparrow. Avete omesso un capitano, mi pare. Corre voce che Jack Sparrow sia a Londra, deciso a trovare la fonte della giovinezza. Non essere sciocco, Jacky. La fonte ti metterà alla prova. Era proprio necessario? Signori! La fonte è il premio. Solcheremo i mari delle sirene. Alla via così. Che gioco fai, Jack? Solo per dirvi che prendo il comando della nave. Niente di personale. Farro vena a chi io ti arranco la cabeza. È meglio per voi se per ora... Venire, state lì. I pericoli abbonderanno. In specie, sirene. Zombie. Barba nera. Terrore degli altri pirati. Se io non raggiungerò la fonte, di certo non lo farai tu. Hai finito? Direi di sì. È cominciato. Ritorna! Siamo o no, uomini del re? Come è che non riusciamo a vederci senza che mi punti contro qualcosa? Ecco il Jack che conosco. Vendete, caro la pelle! Mi è mai capitato di stare in un posto molto alto e voler saltare? A me mai. Avete visto tutti? Perché col cavolo lo faccio un'altra volta. Grazie a tutti! Grazie.